Si erano specializzati in furti con destrezza nei parcheggi di negozi e supermercati al punto di aver affinato una tecnica quasi infallibile, ma sono stati smascherati dagli agenti del commissariato di polizia di Sansepolcro dopo una lunga e meticolosa indagine e per la banda è così scattata la denuncia. La tecnica era molto semplice, i ladri attendevano la vittima di turno nel parcheggio e quando saliva a bordo della propria auto, un componente della banda si avvicinava alla vettura e lasciava cadere a terra un mazzo di chiavi o una banconota, poi bussava al finestrino del malcapitato dicendo scusi le è caduto questo. E a quel punto quando la persona usciva dall'auto lasciando incustodita la borsa o da altri oggetti di valore sul sedile lato passeggero, un altro complice si intrufolava nella vettura portando via la refurtiva, il tutto in pochi attimi al punto che le vittime spesso si rendevano conto del furto solo dopo essere arrivate a casa. Le indagini della polizia avviate nel febbraio scorso a seguito della denuncia di una signora derubata nei pressi di un supermercato di Sansepolcro hanno permesso adesso di identificare e denunciare tre persone straniere residenti nel Lazio. Una volta individuata l'auto utilizzata dalla banda, anche grazie al sistema di videosorveglianza del comune, gli agenti infatti hanno ricostruito gli spostamenti del veicolo sul territorio nazionale, documentando la responsabilità delle stesse persone in altri furti messi a segno anche fuori dalla Toscana. Per il furto avvenuto a Sansepolcro invece i poliziotti avevano attivato anche un inseguimento a distanza della banda che aveva permesso di recuperare nel territorio della provincia di Forlicesena parte della refurtiva seguendo il segnale del cellulare che si trovava all'interno della borsa rubata alla signora di Sansepolcro e di cui i malviventi ancora non si erano sbarazzati.